Ben trovati ad un nuovo appuntamento con itinerari domenicali. Siamo al culmine di questo percorso che ci vede insieme alla vigilia di una settimana centrale in tutto l'anno liturgico. Vivremo infatti dei momenti forti che ci richiameranno all'esperienza di Nostro Signore attraverso la passione, morte, sepoltura e risurrezione. E attraverso questa esperienza riconosceremo alcuni segni che hanno caratterizzato la vita stessa di San Pio da Pietrelcina. Nella sua piena conformazione alle sofferenze di Cristo. Ma come ogni settimana apriamo con un servizio introduttivo. La Domenica delle Palme segna l'inizio della Settimana Santa. Un periodo di profonda riflessione e rinnovamento spirituale per i cristiani di tutto il mondo. In questa giornata ricordiamo l'ingresso triunfale di Gesù a Gerusalemme, accolto dalla folla festante che stende rami di palma sul suo cammino, segno di vittoria e di pace. In molte chiese la celebrazione inizia con la benedizione dei rami d'ulivo, seguita da una processione che simboleggia l'accoglienza di Cristo nel cuore dei fedeli. Padre Pio da Pietrelcina viveva questi giorni con intensa partecipazione, immergendosi nel mistero della sofferenza, morte e risurrezione di Gesù. La sua compartecipazione era tale da sperimentare fisicamente i dolori della crocifissione, in particolare durante la celebrazione della Santa Messa. Spesso incoraggiava i suoi figli spirituali a meditare sulla passione, per trovare la forza nelle proprie sofferenze, riconoscendo nel sacrificio di Cristo la via verso la redenzione e la salvezza. Egli ne portò in vita per oltre 50 anni i segni visibili. Oltre alle stigmate fisiche, Padre Pio ha vissuto anche altri fenomeni mistici associati alla passione. Tra questi vi sono l'esperienza della flagellazione, durante la quale ha avvertito dolori e ferite simili a quelle provocate dalle frustate subite da Gesù, e l'agonia nell'orto degli ulivi, caratterizzata da intense sofferenze spirituali. Padre Eusebio di Castelpetroso, assistente di Padre Pio, testimoniò di aver osservato con attenzione la piaga del costato, benché Padre Pio tentasse di coprirla con le mani. Era una piaga a forma di croce. Fra Modestino Fucci, tre anni dopo la morte del santo confratello, trovò una maglia intima con una macchia di sangue in corrispondenza della spalla destra. Una piaga come quella che Gesù si procurò portando la croce sulla via del Calvario. La devozione di Padre Pio alla croce e alla sofferenza redentiva di Gesù ha ispirato milioni di fedeli in tutto il mondo, ed è un riferimento sicuro per partecipare più consapevolmente ai riti e alle pratiche della Settimana Santa, aprendo il cuore alla trasformazione spirituale e al rinnovamento pasquale. Dunque le stimate sono i segni più evidenti sui quali tra l'altro si è prodotta una mole davvero enorme di studi, di documenti. Ma quali sono le altre manifestazioni che lo hanno reso ancora più conforme alla passione del Signore? Lo chiediamo al nostro direttore Stefano Campanella che su questo tema tra l'altro ha realizzato anche diversi studi approfonditi. Bentrovato direttore. Bentrovato a te Nicola e bentrovati ai nostri telespettatori. Possiamo dire che Padre Pio ha vissuto completamente tutte le esperienze della passione di Cristo. È stato già accennato alle cinque piaghe della crocifissione, alla flagellazione, ha vissuto anche la coronazione di spine, per quanto riguarda gli aspetti fisici, a cui poi si aggiunge la piaga in corrispondenza della spalla destra, ma come è stato anche detto nel servizio, ha vissuto anche quell'esperienza di sensazione di abbandono che Gesù sperimentò nell'orto degli ulivi ma anche sulla croce, abbandono da parte di Dio. E Padre Pio questa l'ha rivissuta nella cosiddetta notte oscura dello spirito, quando anche lui si è sentito come Gesù nell'orto degli ulivi e sulla croce abbandonato da Dio. E in più possiamo anche aggiungere che Padre Pio ha avuto il suo tradimento, ha avuto il suo Giuda. Colui che tenne le fila delle intercettazioni ambientali, delle registrazioni con i microfoni nascosti nella cella di Padre Pio e nel parlatoio, nella foresteria, era un sacerdote romano, figlio spirituale di Padre Pio, quindi molto vicino, molto legato a Padre Pio. E quando Padre Pio lo accolse nuovamente, non lo mandò via, dopo che aveva dato queste disposizioni, aveva architettato e mantenuto in piedi queste intercettazioni, quando gli preannunciarono che era venuto questo sacerdote, Padre Pio disse fatelo passare quel Giuda. Quindi davvero lui ha rivissuto l'intera passione di Cristo, chiaramente con modi e situazioni diverse. Come sappiamo, Padre Pio era restio a mostrare, a parlare delle stimmate, ma anche e soprattutto di questi altri segni che aveva proprio ancora più nascosti dentro di sé, dei quali abbiamo le testimonianze, come ha detto nel servizio, di Padre Eusebio e Framo Destino. Ecco, ma di questo cosa possiamo dire? Anzitutto che questo nasce all'inizio, nella fase iniziale, dal credere da parte di Padre Pio che quei segni fossero una punizione divina. Poi, quando Padre Benedetto lo aiutò a capire il reale significato dei segni della passione, continuò a nasconderli, un po' per disposizioni date dai superiori, un po' perché si vergognava Padre Pio, non voleva apparire diverso o superiore dal punto di vista spirituale rispetto agli altri confratelli. E poi, alla fine, c'è anche un altro aspetto che emerge in una lettera in cui Padre Pio per la prima volta rivela la prima stigmatizzazione a Padre Benedetto, che era il suo ministro provinciale, ma anche il suo direttore spirituale, quindi persona a lui vicina. Chiede scusa perché lo rivela, questo fenomeno, dopo un anno e aggiunge mi sono sempre lasciato prendere da quella maledetta vergogna. In conclusione di questo nostro rapido spazio dedicato a quelli che sono stati i segni della passione sul corpo di Padre Pio, poi nella seconda parte entriamo nel merito di quello che è forse il simbolo più evidente, la reliquia più importante della cristianità, che è la Sacra Sindone. Possiamo chiudere con questa intervista che è realizzata ormai diversi anni fa, proprio a Fra Modestino, che parla appunto di questi particolari segni sul corpo di Padre Pio, trovati grazie alla sua opera di archivio. Sì, è stato veramente, diciamo, un testimone davvero particolare Fra Modestino, perché al di là del ruolo che ha avuto nel mettere in ordine tutto ciò che è appartenuto a Padre Pio, che gli ha permesso di ritrovare le camici della flagellazione, la maglia della piaga sulla spalla, ha avuto anche l'opportunità per la confidenza che lo legava, essendo, diciamo, Padre Pio amico di infanzia di sua madre, suo compaesano, e quindi si è creato un legame molto forte, anche di fargli domande scomode o di riscontrare Padre Pio in situazioni dalle quali si capiva quanta sofferenza provava. Dico solo un episodio, una volta lo vide camminare con difficoltà, chiese a Padre Pio, ti fanno così male i piedi? E Padre Pio rispose, preferirei mettere la testa per terra anziché i piedi, tanto mi fanno male. E allora nel ringraziarti ascoltiamo questo stralcio proprio della tua intervista a Fra Modestino. La coronazione di spine sono tre bende, una lunga 95 cm, l'arca 10 cm, e si metteva la notte per sporcare le lezioni di sangue. La metteva intorno alla testa? Perché poi praticamente sanguinavano queste ferite? Queste qua, inzuppate di sangue, sporca, sporca, sangue, sangue. Tre, una 95 cm, l'altra 85, l'altra 65 cm, l'arca 10 cm. 10 cm, ma inzuppate di sangue. E lui ho potuto notare quello che vedevo alla messa, passato a mano, l'intomento, l'accomparazione dell'intomento, poi ad oggi passando il tempo ho messo tutto in ordine. E in mezzo a quei sintomenti, questo sarebbe dopo la morte dei padri figliotti, ho trovato allora delle pezzuole, proprio come fosse messe in un catino di sangue, pezzuole del costato, sicillate. Poi ho trovato delle, conservate a parte onorata, ho trovato delle bente, tre bente appoggiato sul petto, un sudore di sangue, un sangue giallino, sudore di sangue. Era più siero che sangue allora? Poi è imbrattato. Disse una sera dal padre Pio, il padre Pio era morto, dimmi queste pezzuole di sangue, sono vere o no? Sì, mi sono associato a Cristo nel lotto di cetesemani, mi sono associato a Cristo nel mio interno questa fusione di ispirazione, che lui si è offerta per tutto il mondo, per tutte le armi. Mi sono associato a Cristo nel lotto di cetesemani, immaginate, con tre bente che ha solo il suo petto. Poi, i guanti, i guanti bianchi che io conservavo, che si mettevano la notte per non sporccare il sole di sangue. La mattina si doveva lavare con i guanti bianchi perché i peli della barbe si attaccavano alle croste e uscì il sangue. Era costretamente questo qua. Sia i guanti, sia i calcettini, che sono inzuppati di sangue. Questo, poi, i calcetti bianchi, che poi sono conservati. Poi c'è la... Ho trovato una maglia spocca di sangue che sta esposto alla spalla. La sera disse Padre Pio, se tu, se tu, allora piacca la spalla, dammi un segno, io farò la mia testimonianza. Io sono stanco. A luna e cinque di notte sento dolore alla spalla come quando uno con coltella raschia un osso a carne viva. Talmente che era questo dolore. Se erano a decimo sarei morto dal dolore. Una voce potente così assoffarta e tanta profuma. Mi sono alzato e scritto la mia inchiarazione. Poi, questo, la camicia della pracezione che è l'altra volta alla settimana. Due l'ho sicillato, una meno macchiata e l'altra così. Il compadre Pio, come questa camicia di fragilazione come sento il mio interno come quello precedente del sangue, figlio mio, finché una ferita è aperta è più facile uscire il sangue. Ma uscire dei pori dolore fra tutti i dolori, spruzzati, non a goccia ma come una nebulina dei pori che si associava a Cristo per l'umanità. non per una singola persona, così ho sentito il mio interno, per tutta l'umanità. Questo sarebbe, solitamente, sono tutto conservato e poi, non so, tra mani su, per lui, poi ci penso, ci penso, ma solitamente che è passato per le maniche che ho dovuto mettere in ordine dalle c'è tutto, tutto. E torniamo dunque insieme dopo aver parlato di Padre Pio e della sua conformazione alla passione di Cristo. Vogliamo soffermarci su un simbolo, un elemento centrale che andremo a vivere, ad approfondire anche e soprattutto durante la settimana santa. Parliamo della sindone e lo facciamo grazie alla presenza in collegamento di Don Domenico Repice, e sacerdote della Diocesi di Roma, direttore della Chiesa Santa Maria Immacolata all'Esquilino e cappellano all'Università Uni Cusano. Don Domenico è un teologo, esperto in iconografia cristiana, cofondatore dell'Associazione In Novitate Radix, esperto di sindone, ha organizzato diversi corsi di introduzione allo studio del sacrolino e ha dato vita all'Associazione Amici Romani della Sindone. Io ho qui tra le mie mani una delle pubblicazioni di Don Domenico dedicate appunto al sacrolino Via Sindonis, La Passione di Cristo, documentata dal sacrolino, edito da Ares, è scritto in collaborazione con Emanuela Marinelli, che è una sindonologa di chiara fama. Grazie per essere con noi Don Domenico, benvenuto. Grazie a voi dell'invito, un saluto a lei, Nicola, e a tutti i suoi telespettatori. Iniziamo subito col chiederle quali sono le fonti e gli studi più autorevoli nella ricerca sulla sindone. Le fonti, gli studi più autorevoli iniziano a esserci soprattutto dal 1898, quando l'avvocato Secondo Pia con la prima fotografia rivela al mondo le caratteristiche speciali della sindone. Fu fatta poi una seconda fotografia nel 1931 e dalle Rie di un altro tipo, ovviamente la tecnologia era molto più avanzata rispetto al 1898. Poi il periodo della guerra ha fatto sì che ovviamente della sindone se ne parlasse poco fosse custodita al santuario di Montivergine in provincia di Avellino. Poi nel 1969 fu fatta una prima commissione dal cardinal Michele Pellegrino ma una commissione che non ebbe modo di analizzare direttamente la sindone se non per alcune piccole misurazioni. In realtà la grande ricerca sulla sindone cioè di misure di ricerche e di analisi fatte direttamente sul Sacro Lenzuolo risale al 1978 quando un gruppo di studiosi americani ma non solo fondato in America questo gruppo di ricerca lo Shroud ebbe a disposizione la sindone per un lungo periodo di tempo circa 50 ore e notte e giorno questi studiosi di varie discipline e ovviamente di vari credi religiosi non erano cattolici era un progetto di ricerca autonoma all'epoca la sindone era ancora proprietà di Umberto II di Casa Savoia ebbero modo di fare tutta una serie di ricerche di misurazioni che sono state poi pubblicate nel tempo su riviste referenziate su riviste scientifiche referenziate questo gruppo di ricerca nel 1981 pubblicò poi diciamo un resoconto finale dando appunto delle indicazioni antecedentemente nel 1973 Max Frey ebbe modo di studiare la sindone e scoprì la presenza di pollini di piante specifiche dell'area di Israele della Palestina e soprattutto alcuni pollini proprio della zona limitrofa a Gerusalemme poi arriviamo al 1988 con la famosa datazione radiocarbonica che fece risalire la sindone all'età medievale ma questa datazione radiocarbonica venne pubblicata soltanto nei suoi risultati finali nel 1988 appunto 89 su Nature nel corso del tempo i dati grezzi di queste ricerche non sono mai stati pubblicati finché nel 2018 il dottor Tristan Casabianca che è un filosofo studioso della sindone francese della Corsica ottenne con un'azione legale questi risultati dati grezzi delle ricerche e insieme con la professoressa Marinelli il professor Torrisi e il professor Pernagallo dell'Università di Catania su un articolo molto interessante pubblicato su Archeometri è stato dimostrato che il campione utilizzato per la datazione radiocarbonica non è rappresentativo di tutto il lenzuolo questa è la ricerca scientifica poi abbiamo tutte le fonti a partire da queste acquisizioni scientifiche ovviamente è nato l'interesse storico e quindi la ricostruzione del percorso della sindone soprattutto fino al 1353 perché dal 1353 in poi noi abbiamo documenti che ci permettono di ricostruire la storia della sindone con la sua presenza all'Ire prima in Francia poi a Chambéry e successivamente a Torino dal 1578 ecco dove era prima la sindone come era chiamata prima la sindone è un percorso a ritroso che si fa a partire da questi studi scientifici anche e probabilmente la sindone era il santo mandilion conservato a Costantinopoli venerato a Costantinopoli di cui si persero le tracce dopo la quarta crociata e il santo mandilion era sicuramente l'immagine edessena ecco sia che si trovava appunto ad Edessa poi fu portata a Costantinopoli dall'imperatore romano primo Lecapeno e all'inizio del decimo secolo e quindi noi abbiamo tutta una serie di tracce letterarie e iconografiche che ci parlano sia del mandilion sia dell'immagine edessena sia soprattutto dell'esistenza di un'immagine achiropita cioè il cristianesimo fin dalle origini ha avuto la come dire la consapevolezza la certezza di possedere un'immagine achiropita cioè non fatta da mani d'uomo che il Cristo avrebbe lasciato prima Rehabgar poi ecco da qui deriva anche la vicenda della Veronica romana che è praticamente una trasposizione latina della stessa storia legata all'immagine edessena Rehabgar quindi queste fonti storiche ovviamente hanno il limite di dover fare una ricerca ancora più approfondita però è a partire dalle acquisizioni scientifiche che noi possiamo studiare la sindone anche a questo livello storico ed è l'iconografia che ci permette anche di rintracciare un po' il percorso che la sindone ha fatto nel corso del suo tempo da Gerusalemme fino a Torino fino ai giorni nostri Certamente sono tante le fonti e soprattutto gli ambiti di ricerca ma nella percezione comune ecco approcciandosi a questo sacrolino la curiosità che molti si pongono è quella relativa proprio al come ha vissuto la passione Cristo qual è stata la via crucis effettiva secondo quanto ci viene raccontato dalla sindone è tutto quello che noi vediamo sulla sindone cioè sulla sindone c'è l'immagine di un uomo questo uomo è stato sicuramente crocifisso perché si vedono i segni dei chiodi nel palmo di una mano e nei piedi questo uomo ha subito sicuramente una flagellazione di tipo romano e questo uomo ha portato l'uomo della sindone ha portato sulla testa un elemento come fosse un casco di spine che ha provocato tutta una serie di ferite appunto sulla testa questo uomo è caduto nel corso di questa tortura che ha subito perché ci sono delle ferite ai ginocchi delle ferite significative sul volto anche all'altezza del naso e questo uomo ha subito una trafittura fra la quinta e la sesta costola quando era già cadavere per cui i lembi della pelle di questa ferita non tendono a collabire come dicono i medici e da questa ferita al costato è uscito sangue siero separato cioè una parte rossa e una parte più chiara perché il sangue del cadavere siero separato quindi noi possiamo a partire dalle ferite dall'immagine dell'uomo della sindone e dalle impronte di sangue presenti sul lenzuolo sindonico sangue che è uscito da questo uomo che quando era ancora in vita e sangue che è uscito da questo uomo quando era già morto sangue quindi premortale e postmortale sangue venoso e sangue arterioso noi possiamo a partire anche da queste tracce quindi dall'immagine dell'uomo e a partire da queste tracce sanguigne ricostruire in qualche maniera il percorso e troviamo che c'è un parallelismo quasi perfetto quest'uomo ha portato sulle spalle un patibulum il patibulum era un braccio trasversale quindi non la croce intera perché evidentemente i condannati venivano legati fra di loro se erano nel caso fossero immolti e comunque guidati dall'autorità romana perché non bisogna mai dimenticare che la crocifissione era un supplizio che i romani mettevano in atto soprattutto come dimostrazione della loro forza sono stati tanti i crocifissi nel corso della storia e dell'occupazione romana dell'impero romano ma è evidente che questo era un orrendo spettacolo come lo chiamava Cicerone che mettevano in atto soprattutto come deterrente ecco quindi era un pubblico spettacolo e l'uomo della Sindone ha sicuramente delle tracce di legacci all'altezza delle caviglie quindi è stato legato insieme ha portato questo patibolo e la cosa interessante è che il legno della croce il patibolo non l'ha portato direttamente sulla pelle nuda ma la scienza ha dimostrato e le scienze ci hanno dimostrato ci dicono che fra il corpo nudo quindi piegato dalle ferite della flagellazione e il patibolo era presente un tessuto e quindi questo è anche diciamo corrisponde a quanto noi ascoltiamo dai Vangeli che ci dicono appunto che Pilato voleva rimettere in libertà Gesù ma non riesce a causa della folla lo fa flagellare prima poi non riesce a causa della folla e quindi lo fa vestire quindi noi in qualche maniera attraverso l'analisi delle ferite dell'uomo della sindrome l'immagine corporea un'immagine a tutt'oggi misteriosa e noi possiamo ricostruire in un parallelismo quasi perfetto con quello che i Vangeli ci raccontano anche l'episodio di Simone di Cirene che è obbligato a portare la croce di Gesù in qualche maniera corrisponde a quello che noi vediamo sull'uomo della sindrome che è un uomo piagato da tutto questo supplizio precedente alla condanna della croce che è sicuramente caduto una, due forse anche più volte e questo corrisponde a quanto ci dicono i Vangeli ecco ecco Don Domenico siamo quasi in conclusione di questo appassionante come dire squarcio su una storia su una vicenda che merita sicuramente un approccio molto più approfondito ma del quale quest'oggi vogliamo dare come dire anche uno stimolo a farlo in futuro quali altre risposte arrivano dal punto di vista della fede? noi possiamo certamente dire la scienza ce lo dice che quest'uomo chiedo scusa quest'uomo è stato a contatto con il lenzuolo per un determinato periodo di tempo cioè attraverso l'analisi delle ferite e delle tracce di sangue è possibile stabilire quanto quest'uomo morto è stato a contatto con il lenzuolo il lenzuolo non ha segni di putrefazione e quindi poi anche i coaguli di sangue che si sono poi ridisciolti a contatto con il lenzuolo imbevuto di aloe e di mirra hanno un ridiscioglimento tale che può essere calcolato perché se fosse stato un tempo più prolungato queste tracce di sangue sarebbero sbavate diciamo quindi noi possiamo dire la scienza ci dice che quest'uomo è stato a contatto con il lenzuolo non più di 40 ore perché non ci sono tracce di putrefazione in più possiamo dire che non c'è nessuna traccia di manomissione cioè il contatto fra quest'uomo fra l'uomo della sindone il Cristo possiamo dirlo io lo posso dire evidentemente ne sono più che convinto fra l'uomo della sindone e il lenzuolo non è finito ma non c'è stato nessuno che è andato lì ha tolto il cadavere da questo lenzuolo perché nessuna traccia di sangue ha subito delle manomissioni delle sbavature eccetera quindi queste sono acquisizioni di carattere scientifico non di carattere religioso ma che chiaramente aprono alla riflessione del credente e aprono al tema della risurrezione diceva il dottor Goldoni che era un ematologo romano con cui ho lavorato per tanti anni un po' diciamo il mio maestro e diceva che certamente la sindone non ci parla della risurrezione ma in qualche maniera tutti gli studi che facciamo che sono stati fatti sulla sindone alludono a quello che i Vangeli ci dicono della risurrezione di Cristo a quello che la fede cristiana ci dice della risurrezione di Cristo quindi guardando all'uomo della sindone contempliamo veneriamo la sua passione ma nello stesso tempo siamo immediatamente portati alla dimensione della risurrezione alla riflessione sulla risurrezione e quindi questa allusione alla risurrezione della sindone credo che sia una grande motivazione per conoscerla di più ma anche per approfondire il tema profondo della nostra fede che è poi quello che ci andiamo a preparare a celebrare nella liturgia nei prossimi giorni ecco per vivere anche più consapevolmente questa settimana così particolare è fondamentale nel nostro percorso di fede che ci accingiamo a vivere grazie grazie di cuore Don Domenico per questo suo contributo e a presto grazie a lei e grazie a tutti quanti voi dell'ospitalità grazie noi ci fermiamo qui torneremo insieme ancora la settimana prossima per i nostri itinerari domenicali grazie a tutti